Grazie Presidente, con l'occasione ringrazio anche la Consiglia Ramussolini per aver presentato questo dispositivo. Noi riteniamo un dispositivo importante nei contenuti soprattutto per quanto riguarda il tema dell'amianto, un tema di importanza non di poco conto. Noi a tal proposito abbiamo convocato tempo fa una commissione ambiente insieme alla commissione scuola, perciò una commissione congiunta proprio per affrontare questo tema che di fatto non è un semplice tema ma comunque è proprio una criticità a tutti gli effetti, proprio per sapere e conoscere lo stato dell'arte attuale da parte del Dipartimento Ambiente e del Dipartimento Scuola sulla questione dell'amianto e conoscere anche i municipi e sapere ad oggi quello che i municipi hanno fatto. Ecco, il Movimento 5 Stelle su questo tema si è mosso, si è mosso anche velocemente perché le giunte municipali hanno richiesto agli uffici tecnici proprio di stilare una mappatura georeferenziata che possa creare una fotografia molto dettagliata nei municipi di Roma. Questo è stato fatto tempestivamente, è stato fatto anche in modo molto complessivo perché non riguarda soltanto le scuole ma riguarda tutti gli uffici, tutti gli stabilimenti sensibili, perciò casi di riposo, ospedali e vi discorrendo. Questo è importante perché il tema dell'amianto è un tema centrale, soprattutto per l'ambiente perché sappiamo che può provocare delle patologie molto serie come lei ha evidenziato, io aggiungerei anche il misoterioma pleurico che è una patologia molto seria che provoca ingenti danni all'organismo anche di carattere oncologico. Noi abbiamo richiesto di creare un ufficio in ogni municipio, un ufficio proprio per l'amianto, dedicato all'amianto dove ogni cittadino può andare nel proprio municipio e può segnalare quelle criticità che ad oggi l'amministrazione o il Dipartimento non è riuscita a rilevare. Allo stesso tempo noi abbiamo richiesto di creare un ufficio apposito all'interno del Dipartimento Ambiente proprio per affrontare in modo coordinato anche con gli altri municipi di Roma Capitale, perciò il Dipartimento Simu, Dipartimento Pao, insomma proprio per creare un coordinamento anche a livello amministrativo e inserire all'interno di questo ufficio preposto un tecnico per l'amianto perché il tema dell'amianto è un tema che deve essere affrontato da esperti, non è un tema sicuramente molto semplice ed è chiaro che deve essere affrontato da tecnici esperti proprio su questo tema. Noi la ringraziamo per aver presentato questo dispositivo, il suo collega di Priamo era presente alla Commissione e comunque ringraziamo Fratelli Italia per il contributo che ha dato su questo tema, noi oggi siamo tenuti però ad astenerci su questo dispositivo proprio perché abbiamo affrontato la ringrazio e con l'occasione organizzeremo a settembre una proiezione qui in Campidoglio proprio sull'amianto un documentario che è stato proiettato alla Camera che in forma di cronistoria racconta un po' quello che è stato fatto ad oggi sul tema dell'amianto. Grazie.